...presso la rete autorizzata Fiat. Dovrei essere della mezzia un disastro perché mi dispiace, è il Dio lavoro. Jason Fitz, Kate Hudson e Alec Baldwin, della commedia più scorretta e divertente dell'anno. La ragazza del mio migliore amico, dal 19 giugno al cinema. Stazione di servizio Erg di Pietro Rossi, parlanti dopo il tempo. Salve Pietro, da quando ho portato il mio numero in Erg Mobile, più mi chiamano e più la mia auto si ricarica di carburante. È tutto grazie a te. Se porti il tuo numero in Erg Mobile, più ricevi telefonate e più accumuli sconti sul carburante. Erg Mobile, più parli, più guidi, più risparmi. Le informazioni fai nelle stazioni di servizio Erg aderenti o chiama l'809-87-887. E' la vera dei consulsi, arriva Mazda 2, l'unica auto che è tutto quello che cerchi. Clean e dilante, sicurezza 5 stelle, agilità, gatto e consulsi. Grazie a tutti.